musica 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 Qui si parla di noi, Qua viva delle fonti, Puglia, c'è un club, magari dopo il live Il centro sociale, con i vecchietti seduti a guardarsi il soundcheck, noi siamo arrivati da poco, sono le 6 ma noi siamo arrivati intorno alle 5 e mezza, gli altri erano già qui dalle 4, 4 e mezza e adesso soundcheck Oppure, secondo me sì perché, così non abbiamo ingressi sul palco, ma sai prima che minofano tutta la banda e che fanno l'equilibrio giusto, secondo me non arriverà mai Questa è la mia camera qui ad Acquaviva delle Fonti, in Puglia, è immensa ed è fighissima And that's the bathroom, I think it's amazing, I think it's amazing Now we just take a shower and then we go out for the concert, for dinner and then for the concert Figo Che devo dire, 2 ore e mezza per arrivare a Roma, 3 giorni di spettacolo, chilometri e chilometri su tutto il lungo Tevere, altre 2 ore e mezza per tornare da Roma E poi 3 ore per arrivare ad Acquaviva delle Fonti, si viene a dormire, per fortuna questo alloggio che è finissimo, spettacolare, spettacolare In questa notte si dorme pochissimo perché si riparte alle 8 The best moments Sì, salve Ho visto quei video su Facebook con Gennaro Porcelli Il paese sembra ritornare alla vita dopo il lockdown E c'è festa, moderatamente, però c'è festa Stiamo documentando un'epoca che probabilmente sarà storica Insomma la gente comincia a uscire This is the place where we are going to perform tonight A lot of people Giocare col mondo Facendolo a pezzi Bambini Che il sole Ha ridotto già Vecchi E qui finisce il riverbero Vedi qui non c'è più riverbero Adesso invece torno indietro Vecchi Super riverberone Vecchi Grazie Grazie E' poco che parliamo Imagesa della domanda Vecchi Salute Vecchi 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 Il bis, il maestrone, sta facendo il bis. La nostra zingarella, che vende i dischi, tipo bancarella, capito? Il bis è stato fatto sul palco. Capitan Capitone e i fratelli della costa. I tesori preziosi raccolti durante il forziere. Ma questo quant'è? Bambini! Bambini! Questi dischi sono per voi! Ma l'hanno avuto il disco del Capitone, bambini? L'hanno preso adesso. Va bene. Tu ti sei innamorata? Zio, zio, zio. Vuoi il forziere? Il concerto è finito. Emilia ha venduto più di 300 euro di dischi. Rock and roll! Rock and roll! Il maestro Sepe sta ancora firmando gli autografi. Non lo mollano, non lo mollano! Non lo mollano. Non lo mollano, non lo mollano. Se ti dormi ti un altro palco. Vedete? Apri il mago. Si guido tu, apri il mago. Ahahahahahahahahahah. La serata è finita. Ci andiamo a prendere le nostre cose. Qui sotto ci metterò una musica triste. Una musica... Di gommiato. Di gommiato. E' stato tristato. A tu di gommiato una musica. Di gommiato un po' di gommiato un po' di gommi. Faccio capire. Riccio. Grazie.